Scopriamo il nuovo attrezzo che è arrivato da chi? I ragazzi di Corona Sub. Prendiamo il mio coltellino e con tutta la tranquillità, probabilmente l'abbiamo. Non ho avuto tempo di farlo prima perché lavoro come una bestia, cento miliardi di cose da fare. Innanzitutto un imballaggio strepitoso. L'ho riportato adesso dall'Italia e adesso lo andiamo ad aprire. Via, di scatole in scatole, di imballaggio in imballaggio. Adesso non vi voglio tediare, arriviamo subito al dunque, io continuo a tagliare. Cosa ci sarà dentro? Indovinate un po'. Non vedo l'ora, libidine totale. Con delicatezza perché l'asta è stata ben ben incollata. Eccolo qua ragazzi, Corona 90 Aro con tutto il logo. Mamma mia che spettacolo, che spettacolo assoluto. Adesso devo soltanto andarlo a provare. La mia impugnatura. Brandeggio strepitoso, leggerezza mistica. Cioè veramente roba da sogno. Da sogno, da sogno. Molinello, meraviglioso. Mer-a-vi-li-oso. Jacopo, grazie. Ragazzi, veramente un lavoro splendido. Vedete come abbiamo scelto linee, essenze diverse, nella stratificazione, negli incollaggi, per avere poi dopo al centro il bianco per una linea di mira, anche nel torbido, dove si vede di meno, assolutamente perfetta. Una cosa meravigliosa. Mer-a-vi-li-osa. Adesso andiamo a liberare l'asta da tutto quello che c'è e poi dopo lo andiamo ad assemblare definitivamente. Ah, cosa carinissima. Guardate che arriva. Certificato, autenticità. Firmato, perché ci mettono la firma le persone serie. Arbalete Zircon 90 Wood per Andrea Aromatico, con tutte le caratteristiche che sono state fatte. Via! Adesso andiamo ad assemblare. Eccolo qua. Assemblato, montato anche il sagolino. Innestata l'asta, perfetto gli agganci, perfetto tutto, in ogni particolare mitico. Gli abbiamo dato una pulita con la grappa e una spugnetta per levare gli ultimi residui di colla che c'erano dell'adesivo sull'asta. Un capolavoro, ragazzi. Un capolavoro perfetto. Un brandeggio incredibile. Vedete sotto inseriti le linee di galleggiamento, i pesi per il perfetto, perfetto brandeggio, per essere comodo in qualsiasi situazione. E oltretutto dovrebbe essere un fucile con zero rilevamento. Lo chiamano rinculo ma è un errore. Fucile non rincula, rileva al limite. Ecco, adesso lo proveremo perché la stagione è veramente ormai inoltrata. E' un pezzo che andiamo e adesso saremo con lui, con il nuovo Aro Corona 90. Bello, eh? Guardate che figata. Ah, è giusto, già che ci siamo, anche se mattina abbiamo usato la grappa per questo, bisogna brindare al nuovo fucile. Salute a tutti. Salute a tutti. Salute a tutti. Salute a tutti.